All'inizio ho fatto un sacco di errori su LinkedIn, ho sprecato tempo e soldi, sono stato anche bannato per aver fatto spam. Poi mi sono messo a studiare, ho sperimentato e ho trovato un modo per far funzionare questa piattaforma. L'ho fatto diventare un lavoro, dal 2013 aiuto professionisti e aziende a ottenere il massimo da LinkedIn. In queste 5 lezioni gratuite condividerò con te strumenti, idee, tecniche che potrai subito applicare nella tua strategia su LinkedIn. Ci vediamo online!